Presidio davanti al Palazzo della Provincia di Ravenna per protestare contro i licenziamenti previsti alla Western Atlas. Il vertice che si è tenuto in provincia è entrato nel merito della procedura di mobilità con licenziamento di tutti i 46 dipendenti della sede Ravennate, avviata dall'azienda lo scorso 5 settembre. La stessa azienda nel corso del confronto che si è tenuto al Ministero per lo Sviluppo Economico, il Mise, ha confermato le proprie intenzioni di chiusura. Sostanzialmente l'azienda ha ribadito le proprie intenzioni di chiudere il sito di Ravenna, pertanto la situazione non è sicuramente delle più rose. Grazie probabilmente a una mediazione emersa in questi incontri degli ultimi giorni, è quello che è stato chiesto all'azienda di presentare comunque, o se era nelle condizioni di presentare un piano di impatto sociale per gestire l'impatto sociale, cosa al quale non si è sottratta, la fase istituzionale che scade per quanto riguarda il percorso della fase dei licenziamenti che scade il 19 di novembre, praticamente ci permette in qualche modo di fare ancora un incontro con l'azienda dove ci presenterà un piano, ovviamente verrà sottoposto ai lavoratori che decideranno poi quale sarà il futuro da intraprendere. Sicuramente è una delle vertenze più difficili anche perché abbiamo a che fare con le multinazionali più importanti al mondo nell'ambiente dell'oil e in gas, sono le principali compagnie che hanno in mano tutti i lavori.